Stanchi no, ma rucini di sì, quindi servirete no, no? Chi ce l'ha? Sulle maniche? No, no! Amine! 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 Andrea si è perso, non si è perso, e non sa tornare, Andrea si è perso, e non sa tornare, Andrea mi va un amore è di nisto, Andrea mi va un dolore è di nisto, perché? Andrea mi va un dolore è di nisto e il candidato a snettare il nostro collaboratore, Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.